ragazzi eccoci di nuovo fra noi facciamo le pagine della partita di ieri pagine purtroppo che non saranno buone per la roma come abbiamo visto tutti ma commentiamo insieme quello che abbiamo visto ieri allora mirante 4 e mezzo allora purtroppo mirante è sicuramente un buon secondo portiere però non può fare il titolare della roma un po per la questione anagrafica visto che c'è 37 anni un po perché anche a livello tecnico ha delle lacune e come il nostro paolo per se abbiamo visto che le sue lacune sono uscire a cazzo praticamente e certe volte non avere una posizione corretta all'interno della porta purtroppo ieri il gol del 2 a 1 è palesemente in suo errore anche se poi ci mette del suo anche calzrop che non fa la marcatura su gossens ma questo è una cosa recidiva per cui purtroppo si prende quattro e mezzo il tre della difesa ragazzi gli diamo un 5 un 5 perché comunque il primo tempo sono stati perfetti sono stati veramente attenti sono stati veramente concentrati non hanno fatto tirare mai zapata mi pare che nel primo tempo l'atalanta ha fatto solo un tiro diciamo anche centrale innocuo con malinoski magari ha fatto tanto possesso palla ma non è riuscita mai a trovare il varco visto che comunque le fasce sono state bloccate gossens e atebura non hanno avuto l'opportunità di andare sulla fascia attaccare bene dietro ripeto mancini smolling e i banes nel primo tempo non hanno fatto giocare mai gli avanti del dell'atalanta nel secondo tempo purtroppo dopo aver preso il gol del pareggio su una gran giocata di zapata lì purtroppo smolling non ha avuto neanche la reattività per intervenire zapata è stato velocissimo ha trovato il gioglio quel tito sotto la traversa imparabile poi è chiaro l'errore sul 2 a 1 l'errore sul 3 a 1 che non è da debitare alla difesa e poi come era successo con il napoli praticamente lì ci ci fa il politano se marca tutti in mezzo all'aria poca reattività poca concentrazione e ne prendiamo 4 quindi primo tempo da 7 secondo da da 4 gli diamo un bel 5 a tutta la difesa mancini comunque rientra adesso da un infortunio smolling anche comunque non è al top della condizione che anche lui è stato parecchio fuori i banes le sta giocando tutti bisogna essere però più concentrati ragazzi e essere più più reattivi e più attenti dall'inizio alla fine pellegrini voto 4 e mezzo passiamo al centrocampo pellegrini come dico sempre io è un giocatore che purtroppo per come la vedo io non è un giocatore di continuo non è un giocatore che prende per mano la squadra non è un giocatore che sprona la squadra che la prende per mano nei momenti di difficoltà anzi nei momenti di difficoltà sparisce proprio dal campo e ieri a parte quella posizione del primo tempo io pellegrini non l'ho visto proprio è facile fare il fenomeno con il bologna che nel primo tempo contro la roma ha fatto il suo peggior primo tempo della stagione poi quando si tratta di tirar fuori le palle nelle partite che contano pellegrini sparisce dal campo e come al suo solito diventa un giocatore mediocre che fa una partita sì e tre no e io continuo a dirlo che secondo me ieri doveva giocare tutta la vita villare a centrocampo perché è un regista perché c'ha bisogno di gioco perché fa fa girare la squadra molto meglio a centrocampo e magari spostare quel pellegrini sulla tre quarti al posto di un pedro inguardabile vere tu gli diamo 5 anche a lui perché ha fatto un primo tempo anche lui da 7 e poi nel secondo tempo è crollato un po come tutta la squadra e contribuisce anche al gol di muriel praticamente lanciandolo verso la porta per cui anche il buongiorno si pia l'insufficienza anche se comunque è sempre uno che porta la croce lì a centrocampo noi gli diamo troppo addosso però questi errori vanno sicuramente evitati spinazzola voto 5 anche lui ieri ha spinto veramente pochissimo forse magari era anche dettata dalla date pure uno che spinge molto quindi ha fatto più contenimento che spinta poi la roma ieri non ha proprio saputo sfruttare le fasce sino dall'inizio di partita quando siamo andati in vantaggio si mangia un gol non lo so perché gollini è uscito un po a cazzo secondo me ieri però è anche vero che è molto alto quindi se l'è trovato davanti spinazzola ha fatto il palonetto gli ha detto male che ha preso il palo però poteva fare meglio sicuramente poi nel secondo tempo viene sostituito da bruno peres perché anche lui ragazzi le sta giocando tutte e un giocatore di tre giorni non è facile poi lui è soggetto anche infortuni e quindi purtroppo fonseca ha dovuto fare i cambi e noi abbiamo bruno peres questa è la realtà dall'altra parte gas drop 5 anche lui anche lui primo tempo dirigente senza sbavature poi nel secondo praticamente si perde go sense su cosa del 21 ecco e torna nella sua mediocrità di calciatore che spesso abbiamo visto in campo mi chiedere hanno voto sei diciamo che lui forse quello meno peggio della giornata di ieri che ha cercato anche nel secondo tempo di fare qualcosa di attaccare dico di fare da collegamento tra il centrocampo e l'attacco ha il merito di fare subito l'assist per il gol di zeko ma anche lui ragazzi non è che può far tutto da solo e c'è bisogno assolutamente di avere dei compagni che l'aiutano petro vuto quattro e mezzo petro da quando si è fatto butta fuori col sassuolo è rientrato e sta facendo cagare non so per quale motivo non riesce più a essere quel giocatore determinante che abbiamo visto prima nelle giornate precedenti non riesce a trovare gli spazi non riesce a lanciare i compagni non riesce a fare più un dribbling è in evoluzioni negativa questo mi preoccupa molto e ieri ha dato conferma di questo zeko voto 6 perché fa un grandissimo primo tempo lotta con i difensori del dell'atalanta fa il go del 1 a 0 manda ai pazzi romero che viene sostituito all'intervallo e poi come spesso accade anche lui nel grigiore generale del secondo tempo non esce dalla partita ma è chiaro che anche lui ragazzi comincia ad avere 35 anni e giocare ogni tre giorni gli fa fatica poi entra villare a cui do sei perché comunque quando è entrato villare la squadra ha girato meglio ha avuto più interdizione più capacità di ripartire forse è un giocatore che in mezzo al campo è tecnico ha visione di gioco c'ha personalità io l'ho detto ragazzi di là deve giocare ormai deve essere considerato un titolare perché è quello che si sposa meglio a centrocampo con verità un regista è un corridore per cui io spero vivamente che possa giocare titolare contro il cagliari perché ci serve proprio un giocatore del genere ha tanta personalità sto ragazzo a me piace tantissimo e vorrei sempre vederlo in campo poi evito di fare i commenti su mayoral carles peres e bruno peres che sono entrati perché sono dei giocatori che secondo me purtroppo abbiamo il rosa mayoral è sempre uno che si impegna che corre il ragazzo non si discute è chiaro che non possiamo aspettarci da boia mayorale che entri e faccia subito la differenza però gli altri due ragazzi secondo me non sono giocatori da roma fonseca gli do un sei di stima perché comunque ripeto ieri forse l'unica l'ora è quello di non aver fatto giocare villare dall'inizio però bisogna anche vedere che villare ha giocato anche lui tutte e forse pedro che aveva riposato in queste ultime settimane poteva essere inserito meglio nel contesto della partita però ragazzi io ripeto con questa rosa sta facendo dei miracoli l'allenatore perché qualsiasi altro allenatore con questa rosa secondo me sarebbe settimo ottavo e invece fonseca comunque sta portando la squadra in zona champions stiamo in zona champions se vinciamo col cagliari chiudiamo l'anno come lo fecimo l'anno scorso quarto in classifica per cui non c'è da chiedere altro a allenatore sino di comprare i 3 4 giocatori a gennaio che sono fondamentali se vogliamo puntare veramente alla champions fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi iscrivetevi al canale tanti like commentate e ci sentiamo nei prossimi giorni per commentare la partita di cagliari ciao 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 Grazie.